Buon primo maggio e grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che in questi tempi difficili hanno lavorato per tutti noi. Per essere degni di questo impegno dobbiamo ora pensare a chi il lavoro lo ha perso e a chi rischia di perderlo nelle prossime settimane. Questo significa che dobbiamo cominciare a pensare e a costruire il futuro, che sarà diverso ma potrà essere migliore se fondato su principi chiari e nei quali cominciamo ad investire. Dovremo rispettare il pianeta e dovremo aver chiaro che nessuno dovrà essere lasciato solo e quindi per il lavoro dobbiamo pensare e immaginare e costruire una nuova Italia, una nuova Europa, con una nuova presenza pubblica per investire, con un modello produttivo più competitivo, con una lotta senza quartiere alla burocrazia, con un modello sociale più inclusivo di quello di qualche mese fa e con un'Europa più unita, più politica, più presente, più solidale e protagonista nel mondo. Io credo che sia sempre più evidente proprio dopo queste settimane che l'odio, l'egoismo, il nazionalismo sono tutte parole che non garantiscono nulla alle persone. Noi vivremo fisicamente più distanti ma dovremo essere più comunità, più uniti e se c'è una cosa che queste settimane ci hanno insegnato è il bisogno che abbiamo degli uni e degli altri e quindi anche di un nuovo patto sociale fatto di diritti ma anche di doveri e nel quale ognuno faccia la propria parte. Non è semplice però possiamo farcele, ce la dobbiamo fare e soprattutto c'è bisogno dell'aiuto, del contributo, delle idee e dell'impegno di tutte e di tutti, con idee diverse ma in un clima di concordia che ci permetta di affrontare il futuro e le sfide che abbiamo davanti. Anche per questo abbiamo lanciato una piattaforma web, Immagina, con articoli, talk, video per raccogliere i contributi di quella parte di paese che è cosciente della durezza della sfida che abbiamo davanti ma che non si arrende, non si vuole arrendere e non si arrenderà. Buon primo maggio a tutti!